Ciao amici di Teletrope Games, FIFA, i football, UFL, quanti giochi di calcio in questo periodo stiamo parlando? Però una certezza, una certezza che abbiamo, che ogni anno arriva e presenta il database migliore in assoluto di tutti i giochi di calcio è Football Manager. E proprio oggi, oggi, giovedì 9 settembre, abbiamo scoperto quando uscirà Football Manager 2022. Football Manager 2022 arriverà il prossimo 9 novembre, esattamente fra due mesi. Allora, esce su PC, esce sui smartphone, la versione mobile. La grande novità è che arriverà su Xbox Game Pass dal Day One, sia su console che su PC. Avete capito bene? Basta iscrivervi al Game Pass di Microsoft e avrete in omaggio, sostanzialmente, Football Manager 2022, sia su PC che su Xbox Series X ed S. E anche su Xbox One, assolutamente, anche su Xbox One. È una novità, è importante, importantissima, perché Football Manager ogni anno vende centinaia di migliaia di copie e trovarselo pronto su Xbox Game Pass pagando solo l'abbonamento è davvero una cosa molto, 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 molto interessante. FM22 Mobile ugualmente arriverà il 9 novembre, FM22 Touch invece, quindi la versione semplificata di quella completa, invece ancora non ha una data di uscita. FM22 Touch arriverà anche su Nintendo Switch, però, ripeto, non arriverà il 9 novembre, arriverà successivamente e Sports Interactive dirà qualche cosa di più nei prossimi giorni a riguardo. Queste, diciamo, sono le primissime informazioni. Si può già prenotare Football Manager 2022 con il 10% di sconto e per avere l'accesso anticipato, come capita sempre. Lo potete fare dal Sega Store, da Steam, da Epic Games o da Microsoft Store. Ovviamente questo non vale con il Game Pass per giocare prima, per giocare la beta, diciamo, che dovrebbe arrivare circa due settimane prima. Quindi, diciamo, verso metà fine ottobre bisogna acquistare il gioco e non sia sul Game Pass. Per il Game Pass si parte dal 9 novembre, che comunque è davvero una cosa niente male. Si potranno anche, come dire, i due giochi possono essere giocati su Game Pass separatamente, cioè non è che dovete portare avanti per forza il salvataggio. Se volete fare, ad esempio, una carriera con il Modena su Xbox e invece su PC volete fare una carriera con l'Avellino, potete portarle avanti senza dover per forza sincronizzare i salvataggi. Queste sono le primissime informazioni di Football Manager 2022. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa cosa vi interessi, spero che vi iscrivete subito al canale di Tariato Banks se ancora non l'avete fatto. E ovviamente torneremo a parlare di Football Manager 2022, non appena ci saranno ulteriori novità. Però diciamo che questo elemento del Game Pass è davvero una cosa molto, molto, molto importante e sorprendente. Davvero, davvero sorprendente. Chissà, chissà cosa succederà. Purtroppo, purtroppo, quello che dobbiamo registrare è che anche quest'anno sembra proprio che sulle console PlayStation non arriverà. È un peccato, Sports Interactive non ha nascosto gli scorsi anni che il problema è sostanzialmente di avere la disponibilità dei kit di sviluppo a parte di Sony. C'è stata forse qualche incomprensione e invece c'è una grande, grandissima collaborazione con Microsoft per quanto riguarda appunto sia la disponibilità del gioco su Xbox e sia sul fatto che si può giocare con il Game Pass Ultimate, si può portare anche sul cloud, ovviamente, tramite Xbox Cloud Gaming. Insomma, c'è davvero il massimo dell'ottimizzazione da questo punto di vista. Per il momento è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e come ci saranno ulteriori novità su Football Manager 2022 le troverete sul canale YouTube d'ItaliaTopGames.it. Ciao!